Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Per le varie categorie Infatti come vedete qui a destra Cioè a sinistra anzi Ho suddiviso tutte le mie categorie Con casa, lavoro, spese, applicazioni Compleanni Download E qui come vedete abbiamo tutte le nostre azioni Divise per giorni Per scadenze eccetera eccetera Quello lo potete decidere voi Ed è veramente ben fatta Come grafica Veramente un'applicazione Nel suo genere penso unica E completissima veramente Costa anche 5 euro e 49 Nell'app store Però come vedete è Veramente ben fatta Infatti se noi andiamo a creare Diciamo un nuovo to do Con una nuova attività Che mettiamo Prova Ad esempio Crea Ed è detto adesso l'ho messo all'interno di casa Infatti come vedete Prova Se noi andiamo A schiacciare Depenniamo Prova E quindi È come se L'avessimo già eseguita E quindi non resta Che andare su Eseguito E eliminarla Vedete la grafica È veramente ben curata Questo to do Ha anche le notifiche push Nei notifiche delle allarmi Non nella versione light Che potete tranquillamente Trovare nell'app store E prendervi per provarla Però non implementa Le notifiche push E nemmeno I suoni E gli avvisi E poi con to do Possiamo anche farci Arrivare direttamente Un'email Sul nostro iphone Quando abbiamo in scadenza Una nostra attività Molto molto carina È qui Queste categorie Suddivise per colori Infatti se noi ne andiamo A creare di una nuova Ad esempio mettiamo Viola blog Come vedete la grafica Proprio come una nota Abbiamo tutte le varie Possibilità Possiamo mostrare la nota In tutte le note In oggi In completate Oppure possiamo Sincronizzare con I call Infatti to do È perfettamente Compatibile Anche con I call Del nostro mac Quindi ragazzi Se qualcuno Ha tanti appuntamenti Li vuole sincronizzare Con to do Lo può fare Tranquillamente Abbiamo anche La protezione Con una password Infatti le nostre note Se Non le vogliamo Far leggere a nessuno Con Mettendo una password Si può Tranquillamente Bloccare La nota Poi chiaramente Possiamo andare A scegliere Un colore Tra quelli Preimpostati Dall'applicazione Oppure Al contrario Andare noi Tranquillamente A definire Un colore Che più ci piace Qui in alto Vediamo L'anteprima Del colore Andiamo a dargli Un violino Facciamo Crea E come vedete Un'applicazione Viola Blog Ora purtroppo Si verrà sfocato Di sicuro Comunque Il Il to do Sulla sinistra Di Viola Blog È stato Creato Se ci entro Dentro Possiamo Aggiungere Con il più Devo comprare Una videocamera In hd Allora Possiamo aggiungere Il nostro to do Ad esempio Prova Per Video Fine Come vedete Vi Ci ha aperto Tutte le Le proprietà Infatti possiamo Dargli una priorità Alta Per esempio Con questo tasto qua Possiamo definire La Categoria Del calendario Cioè Quella a sinistra Quelli che erano Di qua Prima Sono tipo I calendari Dove noi poi Possiamo andare A metterci Le nostre note Sicché noi abbiamo All'interno Del Viola Blog Poi la scadenza Non diamogli nessuno Tanto In questa fascia Qui potete Dargli una scadenza Che può essere Oggi Domani Oppure Personale Insomma Possiamo dargli Diverse scadenze Poi possiamo Aggiungere una nota Qui Oppure Cliccando su Altre opzioni Come vedete Si apre Notifica push Il campanello Che ci ricorda La nostra nota In scadenza Oppure Farci arrivare Tranquillamente Un'email Poi ci sono I vari tag Le varie foto Possiamo aggiungere Anche Un sito Internet Se vogliamo E Quel preciso istante Ci venga ricordato Di Agganciarsi A un sito Internet Noi Premiamo Su crea E come vedete All'interno Di Viola Blog Si è aperto Il badge Su Viola Blog Qua Ecco il badge E qui c'è Prova per video Se La vogliamo Cancellare Non facciamo Altro che Depennarla Oppure Se vogliamo Possiamo anche Rimetterla In funzione Oppure Possiamo Tranquillamente Andarla A Eliminare E come vedete Tipo il fogliolino Che vola Buono Miticissimi Questa era Ed è To do Applicazione Veramente Utile Che vi consiglio Ad andare a prendere Nell'app store Nell'app store Buono Mitici Mi raccomando Continuate a seguirmi Grazie a tutti per i commenti E per i nuovi iscritti Ciao a tutti Miticissimi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti